Il presidente della regione Mario Oliverio sta meditando con attenzione sui nomi dei nuovi assessori regionali. Oliverio ha annunciato che lunedì prossimo il nuovo esecutivo sarà pronto, per cui ha solo pochi giorni a disposizione per trovare quella che Bossi chiamava la quadra. Fuori gioco appaiono ormai tutti gli attuali componenti della giunta, dalla vicepresidente Ciconti all'assessore Guccione. Oliverio sa infatti che per recuperare credibilità la nuova giunta dovrà essere composta da persone che non siano minimamente coinvolte nell'inchiesta sui rimborsi fasulli dei gruppi consigliari. Ecco allora che il presidente della regione dovrà pescare tra esponenti espressione della cosiddetta società civile, o che, pur avendo una caratura politica, non abbiano avuto nulla a che fare nel loro percorso con la regione Calabria. Oliverio sta certamente meditando sulla opportunità di chiedere al professor Antonio Viscomi, docente di diritto del lavoro all'Università Magna Grecia e da poco nominato direttore generale della Presidenza, di assumere la guida di un assessorato e magari anche il ruolo di vicepresidente. Viscomi gode di una stima generalizzata e da profondo conoscitore delle problematiche del mondo del lavoro, potrebbe rappresentare un tassello fondamentale del nuovo esecutivo. Per altri assessorato, Oliverio potrebbe puntare invece su esponenti delle autonomie locali. Il nome di Peppino Vallone, sindaco di Crotone e presidente dell'Anci Calabria, è certamente presente nel tacquino di Oliverio, così come presente il nome di Michele Drosi, sindaco di Satriano e presidente dell'Anci Piccoli Comuni, apprezzato sia per la formazione politica di cui dispone che per la capacità operativa. Non è da escludere poi che Oliverio si rivolga al mondo delle associazioni impegnate nel sociale ed in questo caso i nomi di Adriano Musella, di riferimenti e di Franco Corbelli di diritti civili potrebbero entrare prepotentemente in campo. Oliverio dovrà tenere conto comunque anche delle spinte che inevitabilmente verranno dall'interno dei partiti, ma come ha precisato non intende subire pressioni di alcun tipo, deciderà alla fine da solo, sapendo che stavolta non si può più sbagliare.